Oggi andiamo a San Gimignano, bellissima città in Toscana, detta anche la Manhattan del Medioevo. Con le mura del dodicesimo secolo che ancora la circondano, San Gimignano è famosa per il suo patrimonio artistico e storico, per le case torri, in particolare la torre grossa, per le piazze come Piazza della Cisterna, circondata da case medievali, ma anche per la produzione di zafferano e di vernaccia, un ottimo vino bianco. E naturalmente non possono mancare dei fantastici musei. Siete pronti a visitare San Gimignano? Seguitemi! San Gimignano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.